I martiri sono quelli che portano avanti la Chiesa, sono quelli che sostengono la Chiesa, che l'hanno sostenuta e la sostengono oggi. E oggi ce ne sono più dei primi secoli. In media non lo dicono perché non è notizia, ma la più grande forza della Chiesa oggi e nelle piccole Chiese, piccolina, con poca gente, perseguitate, con i loro Vescovi in carcere. Parlava di fronte a loro, ma parlava anche proprio di loro e chissà nel cuore cosa provavano. All'Omelia Santa Marta di lunedì scorso, li vedete in prima fila, erano seduti tra gli altri due Vescovi, non due di quelli da aeroporto per parafrasare Bergoglio, ma dall'odore del gregge. Si tratta di Monsignor Tito Ban Cong e di Monsignor Luis Marie Ling, entrambi del Laos. Francesco li aveva già incontrati in visita ad Limina giovedì scorso e chissà, forse avranno avuto modo di raccontargli le loro storie travagliate di preti in carcere. Entrambi i peresoli nel Laos hanno attraversato tutta la cosiddetta guerra segreta, il conflitto civile iniziato negli anni 50, culminato negli anni 70 con l'ascesa comunista e la cacciata di tutti i missionari stranieri. In queste rare immagini missionari prima della cacciata, in gran parte gli oblati dell'Immacolata. Ehi là, finalmente! Ti abbiamo portato alla posta. Ah, grazie. I due Vescovi ricevuti da Francesco, invece, originali del Laos, resistettero, incarcerati senza poter celebrare messa il loro stesso corpo, raccontano oggi, corpo di Cristo, il loro stesso sangue, sangue di Cristo, costretti ad arruolarsi ad anni di digiuni. Solo dal 2000 possono riprendere ad annunciare il Vangelo alle comunità più sperdute, riparate sui monti, trovando intatta la loro fede, un po' come il caso del recente film Silence. Così lo scorso 11 dicembre più di mille fedeli hanno partecipato alla messa di beatificazione, questa la cerimonia dei 17 martiri del Laos. Non solo sacerdoti, ma anche catechisti laici, a questa chiesa piccola, piccolina, ma feconda, pensava Francesco.